Salve, sono Jackie Carter, responsabile Herbalife per la formazione sui prodotti di nutrizione esterna. Benvenuti nei 7 passi per una migliore cura della pelle. La pelle esposta agli agenti esterni può perdere le naturali sostanze idratanti e seccarsi. Queste sostanze sono essenziali per mantenere la pelle idratata. La pelle va idratata due volte al giorno, dopo la pulizia e l'applicazione del tonico. Scegliete sempre una crema idratante con un fattore di protezione solare per proteggere la cute dai raggi del sole. Fatelo anche d'inverno, perché i raggi UV passano anche attraverso le nuvole. La protezione solare è vitale per mantenere una pelle giovane più a lungo. La sera, invece, optate per una crema più concentrata. Applicate la crema idratante con delicatezza sul viso, usando la punta delle dita. Iniziate passando la crema sulla fronte, con movimenti dal centro verso l'esterno. Massaggiate la crema sulle guance e lungo la mandibola, nella zona di mento, bocca e naso. Quindi, su collo e gola. Non esagerate con la crema, perché non verrebbe assorbita e impedirebbe alla pelle di respirare. Anche se la vostra pelle tende ad essere grassa, l'idratazione è comunque importante. Scegliete una crema più leggera per pelli grasse, in modo che non congestioni i pori. Sono Jackie Carter. Grazie per aver seguito il secondo capitolo dei Sette passi per una migliore cura della pelle.